Ben ritrovati a pomeriggio sud, vado subito a collegarmi con Luca Bertoncello, insegnante di discipline marziali. Benvenuto. Buongiorno Francesco, grazie per l'invito. Buongiorno. Con te parleremo dell'ultimo evento che hai tenuto a Bari, in giro un po' di tutta Italia, a proposito di difesa e autodifesa, in questo caso femminile. Esattamente, stiamo proponendo, soprattutto in questo mese di marzo, in realtà lo proponiamo un po' tutto l'anno, ma in particolar modo appunto in questo mese, data anche la possibilità dell'8 marzo, ad esempio, dell'evento dell'8 marzo, stiamo proponendo queste elezioni a livello nazionale e quindi ci stiamo molto molto muovendo in questo periodo. Siete riusciti a svilupparlo bene? Tra poco se c'è la galleria fotografica, carissima regia di Pellino, io lo chiamo Pellino, lo so Pellino, Scaramuzzi, adesso ce la mandano e ce le mandano in onda in modo che possiamo capire meglio di che cosa si tratta. Poi, magari nelle prossime puntate, cerchiamo perché è una disciplina molto seguita, io direi, a parte che lo sport è indispensabile come elemento nella nostra quotidianità, ma le arti marziali oggi servono proprio perché non tutti hanno buone intenzioni e quindi sapere quelle che sono le regole, sapere quelli che sono tutti i meccanismi per difenderci da chi ci vuole aggredire è molto indispensabile, quindi molto importante. Dimmi pure, Luca. Sì, assolutamente, è fondamentale. Purtroppo, come vediamo, ci sono sempre più casi in tutte le parti della società, quindi anche oggi sentivo, ad esempio, nella parte infermieristica per quanto riguarda il pronto soccorso, continuano ad esserci casi di aggressione. Per quanto riguarda le donne, appunto, la difesa donna, noi continuiamo a persistere sul nostro obiettivo che è quello innanzitutto di formarle per evitare certe situazioni di aggressione, chiaramente stando attente a certe particolari situazioni in cui puoi imbatterti alla sera, eccetera, quindi prevenzione prima di tutto. E in caso di aggressione vedere appunto come togliersi dal problema, quindi togliersi dall'aggressione in quanto tale e fondamentalmente riuscire a prendersi il tempo, quindi colpendo l'aggressore in maniera, chiamiamola, velata, perché comunque in poche lezioni non si può sicuramente pretendere chissà cosa, ma comunque quel tanto che possa essere utile per scappare. Ad esempio un colpo sul naso è sempre un'azione molto potente. Ecco, i consigli utili, infatti, dei consigli utili così a voce, perché non possiamo farli vedere in termini pratici, può essere un colpo sul naso perché si perde l'equilibrio, esce, cos'è che succede? Ma fondamentalmente perché il naso è uno dei punti più sensibili che tutti abbiamo, quindi diciamo un colpo sul naso chiaramente non necessariamente avrà rompere il setto nasale o altro, però comunque l'aggressore per una decina di secondi, 10-12 secondi, è abbastanza diciamo intontito. Quindi questo tempo... Abbiamo il tempo di scappare, eventualmente di chiedere aiuto. Esatto. Sì, sono azioni molto semplici, non sono niente di particolare, in realtà la difesa personale non è una conseguenza di azioni tecniche particolari, è un atteggiamento mentale, quindi è una nostra sicurezza quando ci troviamo a, diciamo, testare il nostro self, quindi la nostra parte fisica e mentale, il nostro controllo, in una situazione di stress che è appunto quella di un'aggressione. Una volta che noi abbiamo la nostra consapevolezza di riuscire a venire fuori e chiaramente abbiamo anche provato e riprovato per, insomma, per un periodo determinato queste situazioni, almeno a livello sperimentale, a livello di simulazione, riusciamo già ad avere un controllo migliore, quindi riusciamo a avere consapevolezza anche della situazione in cui ci troviamo, ecco, perché è quello importante non cadere nel tranello del gelo mentale, del blocco mentale, quindi di rimanere fondamentalmente paralizzate e non riuscire a muoversi. Ho dalle foto visto grande partecipazione di pubblico femminile, qual è la domanda che ti facevano frequentemente all'evento? Volevi anche ringraziare l'assessore? Sì, ringrazio tutto il comune di Bari, quindi sia l'assessore alle pari opportunità che anche il centro di violenza che ci hanno dato un supporto, insomma, un buon supporto per sviluppare l'evento, per il blasone dell'accademia, perché è una cosa che ci teniamo molto la parte sociale, è una cosa che ci teniamo molto a cercare di formare sia queste donne a prendere appunto quella che è la difesa personale fondamentalmente, ma anche per formarle a livello mentale, perché a loro volta a livello mentale, a livello filosofico, anche infondendo qualche concetto della cultura ad esempio confuciana sulla gestione della società e delle persone, perché dopo a loro modo andranno a casa e cercheranno di dare questi consigli anche a livello di approccio sociale a chi gli sta accanto e quindi facendo così si crea tutta una ruota per cui cerchiamo e speriamo di migliorare anche la società. Si parla tanto di formare gli uomini, di educare gli uomini, non solo gli uomini solo ad essere educati, deve essere tutta la società, essere rieducata al rispetto verso le altre persone, non solo gli uomini. Ovviamente sì, ascolta, anche riferimento a quelli che sono gli obiettivi, prossimamente avete già in mente dove recarvi perché magari qualcuno ha i parenti o ci abita, vuole partecipare a questo evento? Sicuramente ritorneremo a Bari, questa è una cosa certa, non ho ancora una data, ma date le tante richieste sicuramente a Bari ci torneremo in tempi credo abbastanza prossimi, forse anche prima dell'estate. Poi abbiamo in programma Napoli, città in cui siamo già stati, e dopo tante altre città che stiamo valutando, chiaramente adesso è un periodo un po' particolare perché tanti comuni saranno sotto elezioni nel 24 giugno, quindi tanti comuni saranno un po' fermi. Però comunque noi stiamo strutturando. Sicuramente per avere una lista di dove siamo basta andare nella pagina Facebook della Vince Un Academy, dove è molto molto aggiornata e quindi si può trovare tutto il materiale, tutti gli eventi che facciamo si possono trovare là. Che cosa succede? Intanto quanto tempo ci avete messo e ci hai messo per formare, come dicevi tu, queste partecipanti all'incontro di Bari? Questi incontri che teniamo fuori sede rispetto a dove viviamo noi solitamente vengono sviluppati in tre ore. Tre ore possono sembrare poche, ma se concentrate su certi meccanismi e con la giusta intenzione e partecipazione e concentrazione, è quello che dico sempre alle partecipanti, cercate di rimanere serie, perché se rimanete serie tre ore possono essere sufficienti per simulare, addestrarvi e quindi portarvi tra virgolette a casa qualcosa. Se invece la prendete scherzando e giusto per passare tre ore del vostro tempo invece di andare in un centro commerciale a fare shopping, beh tanto vale che andate in un centro commerciale a fare shopping. Anche perché tre ore fatte bene è come quasi una settimana da un'ora dei full immersion. Sì esatto, cioè l'importante è concettualmente esserci, essere presenti, perché dopo alla fine, ripeto come ho detto all'inizio, non sono tecniche difficili, sono cose veramente molto molto banali. Quindi si va più che altro a simulare la situazione ad esempio di una presa al polso e si va a vedere come togliersi dalla presa al polso in maniera molto semplice, utilizzando delle tra virgolette armi corporali che la donna ha in sé e come andare appunto a mettersi in salvo. Oltre alle mani le gambe possono essere utilizzate? Allora le gambe si possono utilizzare qualora ci sia la distanza corretta, ad esempio in complemento a quelle che sono le tecniche di mano sviluppate appunto per andare a colpire il naso, c'è ad esempio l'uso della ginocchiata, però deve essere appunto in complemento quando la distanza lo permette, perché chiaramente se uno ha preso il polso con uno strattone a quel punto mi avvicino all'aggressore e quindi posso utilizzare una ginocchiata ad esempio, quindi sì sono complementari, prima cerchiamo di dare comunque priorità alle braccia che sono la parte più importante per riuscire a divincolarsi. Gli arti marziali sono indispensabili, abbiamo detto per la difesa, ma per chi invece volesse fare semplicemente, e passami il termine tra virgolette, semplicemente sport, tu a chi lo consigli? Allora la disciplina del Vinson in questo caso, che è una disciplina che noi come Vinson Academy, che vorrei ricordare nasce nel 1992 ad opera del mio maestro, Grandmaster Paul Tang, equadjuvato dalla referente europea Master Miran Pons, io sono tra virgolette solamente il coordinatore nazionale, quindi cerco un po' di gestire i movimenti. Ti pare poco? Sì, no nel senso, non mi piace parlare troppo di me. Sottolineavo io la tua umiltà, non ti preoccupare. Però diciamo che sì, nel senso è una disciplina intanto, vorrei sottolineare, cioè uno sport è un qualcosa, diciamo, un po' dove serve un po' meno concentrazione e un po' meno anche rispetto, anche se comunque c'è il suono degli sport dove c'è molto rispetto, per carità. Però comunque questa è una disciplina dove il rispetto va dato all'insegnante, va dato all'arte, quindi va dato alla disciplina. Va dato a se stesso? Va dato a te stesso e va dato anche alla società. Cioè quello che io faccio come insegnante, come Sif in questo caso, che significa padre marziale tradotto, è quello di portare fondamentalmente un oggetto, un qualcosa di storico, in onore al mio maestro e a chi c'è stato prima, cerco di tramandare questa tradizione. Quindi questo è l'obiettivo principale dell'Accademia. Abbiamo questa prerogativa, questo vostro obiettivo, perché diciamoci la verità, io tra, non so, 50 anni, 40 anni non ci sarò più, ma l'Accademia spero e voglio che rimanga con altri che porteranno avanti sempre questo concetto, perché l'Accademia fondamentalmente è un contenitore di persone, è un concetto che deve essere portato avanti. Accademia che ha anche equilibrio mentale, perché nel momento in cui io mi cimento in un determinato sport, in una determinata disciplina, sono in equilibrio con me stesso, con il mondo esterno, quindi vivo meglio, alzo la qualità della vita? Sicuramente sì, perché corpo e mente sono unite, quindi una disciplina marziale tradizionale come è il vizio, uno stile di Kung Fu, che Kung Fu ricordo, significa esclusivamente un allenamento costante per arrivare a quella che è una, diciamo, simile perfezione, cioè arrivare al mio massimo attraverso un allenamento costante, mi porta ad avere un mio equilibrio mentale e fisico e quindi fondamentalmente a stare meglio nella società, a vivere meglio in una società anche come questa attuale, che diciamoci la verità, non è proprio il massimo, insomma, della serenità. Grazie Luca, Luca Bertoncello, insegnante di arti marziali e difesa personale, ci sta tutto, e ci rivediamo quanto prima, aggiornami sul prossimo incontro qui a Bari, ma ovunque poi è sempre indispensabile far capire ai nostri telespettatori cosa accade nel nostro territorio e nell'Interland. Certo, grazie a te Francesco, alla prossima.